Le fiamme gialle di Ravenna proseguono i controlli a contrasto del fenomeno della contraffazione, ponendo in atto una tutela ed un costante presidio, sia nei confronti dei commercianti onesti, ma soprattutto nei confronti di tutta la cittadinanza. Un maxi sequestro è stato organizzato e portato a termine nella giornata di ieri dalla seconda compagnia di Ravenna, comandata dal capitano Salvatore Rubino. Il comando seconda compagnia di Ravenna da tempo è impegnato in quelle che sono le indagini condotte ad ampio raggio, ovvero tanto a monte quanto a valle. Noi come seconda compagnia ci occupiamo proprio dell'attività di intelligence, particolarmente è volta ad individuare soprattutto i depositi, soprattutto i trasporti di questa merce contraffatta che non sempre si ferma nella riviera romagnola. Questo è anche un asse importante di passaggio e quindi tante volte la merce è anche in transito. La merce sequestrata si tratta intorno ai 4.500 pezzi sequestrati, varia e di varia natura. Si passa dalle borse, griffate, i marchi sono sempre quelli più o meno noti. I falsi, come noto, sono destinati ad alimentare un mercato illecito che da tempo è imperversa, non solo chiaramente nella riviera romagnola ma anche nelle altre località del settentrione. In genere sono destinate ad alimentare il mercato dei singoli venditori ambulanti, ma talvolta anche di qualche rivendita, la chiamerei così perché non sono veri e propri negozi, ma rivendite che evidentemente sono compiacenti a questo genere di attività illecita. Una cosa importante sottolineare è questa, che l'acquisto della merce contraffatta di per sé costituisce reato anche per chi la acquista. Quindi questo è importante e significativo e è bene evidenziarlo.